Ricomincia il Mondiale Superbike che lo fa nel migliore dei modi nel primo appuntamento della stagione a Phillip Island. Il circuito australiano come sempre regala scenari non banali e gare memorabili in un primo weekend di 12 previsti del Mondiale Superbike che di fatto ribalta tutti i pronostici che qualcuno aveva fatto già settimana scorsa nel video di presentazione. Avevo detto infatti che Bautista, Rasgattioglu e Ray erano ancora favoriti per il titolo e in questa prima gara per motivi diversi i tre Big Three hanno evidentemente abdicato. È successo comunque qualcosa di storico perché a Phillip Island nel sabato matura la tripletta italiana che non accadeva da 31 anni. Evento incredibile. Poi nelle altre gare della domenica non è che sono capitate cose banali. Torna a vincere Alex Lowe che colpo di scena, attenzione, è il leader del Mondiale dopo il primo weekend di gara. L'Italia risponde presente non solo in Superbike ma anche in Supersport. Iari Montella infatti vince le due gare previste e appunto fa punteggio pieno con la Ducati del team Barney Spark. Mandiamo con ordine perché è veramente successo di tutto e stare sintetici su quello che è successo a Phillip Island è qualcosa di difficile anche perché già il contesto non era banale. Phillip Island ha rifatto l'asfalto come circuito e infatti per le gare di Superbike e Supersport la direzione di corsa ha deciso di mettere il pit stop obbligatorio. C'era un tempo minimo da rispettare per tutte le procedure e appunto in caso di per esempio infrangimento del tempo minimo di transito ai box appunto il pilota veniva penalizzato. Questa cosa è capitata a Razgat Yoglu che con la BMW in gara 1 ha fatto quinto. Chi però è mancato in gara 1 è stato Alvaro Bautista il netto dominatore dell'ultima stagione e bicampione del mondo in carica per un errore suo di fatto nel marasma nei primi giri di fatto cade e appunto dice addio alle speranze di vittoria per gara 1. Alla fine Bautista salverà un punto e una delle Ducati che comunque nonostante il peso minimo motopilota che è una delle novità regolamentari di quest'anno era evidentemente uno dei favoriti appunto Bautista abdica e di fatto conquistare soltanto un quindicesimo posto. Spazio però per altre Ducati più competitive e sono quelle che sono finite sul podio perché soprattutto abbiamo un evento mai successo prima perché la prima gara dell'anno di Superbike la vince Nicolo Bulega da Montecchio Emilia. Il pilota campione regnante di Supersport sempre col team Aruba ha fatto il salto in Superbike e pronti via fa pole position ovviamente vittoria e leader del mondiale quantomeno per la gara del sabato. Peraltro non era mai capitato nella storia che un pilota della Supersport da campione regnante andasse a vincere l'esordio assoluto in Superbike. Bulega peraltro sfrutta il pit stop che gli fa guadagnare tanto tempo rispetto ai più diretti inseguitori che sono Andrea Locatelli sempre più una certezza di questa Superbike. Nel video di presentazione avevo detto che Locatelli poteva fare tranquillamente con costanza e infatti quello che abbiamo visto a podio. Chi sorprende assolutamente è Andrea Iannone che dopo la squalifica per quattro anni torna e non solo è competitivo per le prime cinque posizioni ma appunto in gara 1 fa podio. Grandissimo evento e questa immagine dobbiamo tenerla focalizzata a mente perché sicuramente per noi italiani è la copertina di questo weekend al di là del fatto che poi domenica ci sono corse altre due gare. Una tripita italiana non capitava da Misano 1993 31 anni fa per darvi idea io ne ho neanche nato e questo dunque fa sì che quello che ho visto effettivamente è un evento storico con la vittoria di Nicolo Bulega con Locatelli secondo e Iannone terzo. Peraltro questi tre piloti non è che dimeriteranno nel corso delle gare della domenica ma poi ci saranno anche altri valori completamente stravolti. Ogni gara aveva letteralmente una storia a sé tant'è vero che se andiamo a vedere il podio della domenica mattina della Super Bowl Race i valori sono completamente cambiati. C'è una costante però ovvero Andrea Locatelli in seconda posizione chi effettivamente è cambiato sul podio della Sprint Race sono il primo e il terzo. Perché Alex Lowe's redivivo dopo non solo una gara 1 molto importante riesce a trovare l'amalgama con la nuova Kawasaki sul quale peraltro sinceramente io puntavo su Bassani e invece Alex Lowe's mi smentisce e si riscatta dopo una stagione intera clamorosamente opaca e vince la gara Sprint. C'è un altro fenomeno però da dover accreditare ed è Toprak Rasgatioglu che sappiamo ha cambiato scuderia da Yamaha ufficiale passata al BMW ufficiale e pronti via Rasgatioglu. Non solo fa primi 5 in gara 1 e poteva essere quarto ma Rasgatioglu come spiegavo prima è stato penalizzato per aver infatti il tempo minimo in corsia dei box durante il pit stop ma poi col fatto che Rasgatioglu è nettamente più talentuoso nel circuito della Superbike senza sé e senza ma con questa BMW che difetta di motore e in parte anche di ciclistica ha fatto podio in questa gara Sprint. Clamorosa impresa del Turco che però anche in gara 2 dovrà abdicare per una rottura del motore appunto perché la M1000RR non è propriamente la macchina o meglio ovviamente la moto più affidabile dell'otto. Chi ha deluso è l'altro big 3 della disciplina ovvero Jonathan Ray già non si è adattato alla Yamaha di suo almeno in questa gara di Phillip Island eppure fa riflettere come Locatelli con la stessa moto è evidentemente a un livello superiore rispetto a questo Jonathan Ray. Jonathan Ray però comunque ha fatto delle difficoltà inaspettate ed è pure caduto con un incidente abbastanza grave che ha causato la bandiera rossa in gara 2 una gara 2 che doveva prevedere il pit stop obbligatorio e invece ha previsto una gara Sprint di fatto di 11 giri. Una gara Sprint che alla fine ha lo stesso vincitore della gara della domenica mattina ovvero Alex Lowe che questa volta era meglio di un Alvaro Bautista anche qui redivivo dopo una gara Sprint non eccezionale e una gara 1 disastrosa. Alla fine Alex Lowe che non era propriamente in una fase ascendente della carriera anzi ricordiamo che è nel 2023 molto in difficoltà alla fine riesce ad averla meglio con un sorpasso all'esterno all'ultimo giro su Bautista in modo clamorosamente bello. Alla fine c'è gloria poi per Danilo Petrucci che arriva a podio con la Ducati del team Barney Spark, team Barney Spark che sarà ovviamente protagonista anche in Supersport ma Petrucci in realtà è fortunato perché approfitta di un grande duello tra lo stesso Lowe e Andrea Locatelli alla curva Miller il pilota di Selvino purtroppo però cade in maniera rovinosa dopo aver passato Alex Lowe che poi supera anche Bautista e vince per una classifica che recita del clamoroso perché se andiamo a vedere quello che recita il weekend di Phillip Island Alex Lowe è primo con 50 punti nel mondiale Superbike, Nicolo Buliga è secondo con 41 e Locatelli è terzo con 29 ma appunto alzi la mano chi dopo la prima gara di Phillip Island avrebbe pronosticato che Alex Lowe con Kawasaki fosse in testa al mondiale e Nicolo Buliga da rookie fosse secondo nettamente davanti ai big three che per motivi diversi hanno fatto delle gare altalenanti o in colori perché Bautista dopo il weekend di Phillip Island è quinto assoluto con 27 punti Rasgattioglu è ottavo con 18 punti chi delude è tantissimo Jonathan Ray che non ha concluso nessuna gara a punti 17esimo decimo e addirittura ritirato ripeto Jonathan Ray con questa Yamaha ha fatto dei test in realtà incoraggianti poi purtroppo ha avuto delle difficoltà inaspettate in Phillip Island e non ha concluso punti addirittura è a livello delle onda del team Mie e di Rabat che non hanno concluso gare in zona a punti quest'anno Drey però avrà modo di riscattarsi perché ovviamente un campione del genere non merita di stare così giù in classifica certo però fa riflettere che con la stessa moto Locatelli appunto ha fatto prestazioni molto incoraggianti e Locatelli non avesse avuto quella caduta con Alex Lowe probabilmente avrebbe portato a caso un podio e probabilmente una seconda posizione per quanto riguarda il mondiale assoluto per un weekend di Phillip Island che dunque vede dei vincitori comunque inaspettati perché appunto Nicola Bulega fa risuonare il canto degli italiani dopo appunto l'anno scorso con Rinaldi vincitore ultimo sempre su Ducati e Alex Lowe torna a far suonare God Save the King dopo l'ultima vittoria di Jonathan Ray che aveva portato alle 120 in carriera per il nordirlandese Alex Lowe in realtà non vinceva se non sbaglio proprio da Phillip Island di qualche anno fa stagione corta del covid dove uscì in testa al mondiale e poi la stagione la vinse Jonathan Ray comunque Lowe è una delle rivelazioni di questo weekend della Superbike e probabilmente si merita il premio uno dei tre premi di rider del giorno perché Lowe appunto ha avuto una stagione disastrosa lo scorso anno nessuno almeno io l'aveva pronosticato così tanto bene con questa Kawasaki ufficiale e invece Lowe ha dimostrato di essere tanto sul pezzo e essere appunto rinato nonostante appunto il fratello gemello di Sam sia di fatto un grande veterano ovviamente tutti i piloti finiti a podio nella gara 1 quindi Bulega, Locatelli e Nonne si meritano un altro premio di rider del giorno appunto per la grande impresa della tripletta italiana ma in generale l'Italia della Superbike ha fatto delle ottime prestazioni anche in gara 2 per esempio ne avevamo 5 nei primi 8 segno che comunque evidentemente abbiamo dei piloti da top 10 con costanza e anche qualcosa di più il terzo premio di rider del giorno se lo becca senza se e senza ma top Razgatioglu per i motivi di qui sopra Razgatioglu ogni tanto va a cambiare squadra da Kawasaki è passato a Yamaha e poi è tornato a cambiare squadra nuovamente è andato in BMW ufficiale BMW ufficiale che non è minimamente paragonabile ad altre moto ufficiali di queste gare in Superbike per valore rendimento è superiore solo alla Honda del team Fireblade evidentemente però Razgatioglu quello che tocca lo tramuta in oro perché quinto e terzo nelle gare a punti evidentemente è un qualcosa di sontuoso la gara 2 in realtà non è giudicabile perché appunto Razgatioglu ha rotto il motore e quindi non abbiamo dei giudizi completi certo però che se l'andare è questo con una moto inferiore attenzione per quando eventualmente la casa di Monaco possa fare dei progressi ma in generale è una casa di Monaco BMW ufficiale quantomeno che ha investito e qualcosa si è visto perché anche Michael Van der Mark ha fatto due gare su tre in zona punti e Van der Mark è un pilota che ovviamente non aveva questo rendimento anche complice a un infortunio grave lo scorso anno chi delude evidentemente è la Honda Fireblade del team ufficiale e se devo dare una delusione del giorno è assolutamente questo team perché è vero che in questo momento c'era solo Vierge presente come Honda ufficiale ma appunto i soldi della casa giapponese non mancano gli investimenti e non dovrebbero evidentemente altrettanto però appunto vedere un Vierge che se la lotta con le Kawasaki clienti, con le Yamaha clienti che ha fatto per altro meglio con evidentemente delle difficoltà evidentemente è qualcosa che non va ed è un andare molto brutto siccome la Honda ufficiale ha fatto fatica anche nel finale della scorsa stagione Cosa trarre comunque in conclusione di questo weekend di Filippa Rantella Superbike? Il fatto che sia stato finalmente un regolamento sportivo azzeccato e delle gare mai banali valori che non sono mai stati evidentemente ben definiti ma ogni gara appunto per condizioni trovate e per situazioni aveva letteralmente una storia a sé Gli anni scorsi con regolamento vecchio, una gara del genere, il dominatore di turno avrebbe vinto con 20 secondi di vantaggio cosa che invece non si è verificata e abbiamo avuto, a parte la gara di Bullega, quel pit stop obbligatorio, delle gare veramente combattute e veramente belle una sprint race decida praticamente all'ultimo Alex Lows che gara 2 la vince in volata su Bautista che si riscatta dopo un sabato disastroso insomma tantissime lotte anche per le prime 5-6 posizioni per il podio insomma tanti piloti diversi protagonisti con prestazioni altalenanti anche Bullega che appunto da ottavo risale quinto in gara 2 dopo aver dominato gara 1 insomma tanta roba questa Superbike che vede tanti costruttori diversi nelle prime posizioni contiamo già infatti 4 podi per 4 costruttori diversi ovvero Kawasaki, BMW, Yamaha e Ducati cosa che in altre categorie motoristiche non si vede spesso evidentemente aver inserito il peso minimo motopilota ha fatto il suo equilibrando appunto piloti più leggeri e piloti più pesanti e cambiando un po' il pacchetto delle varie moto al netto che come squadra la Ducati rimane sempre la moto da battere quindi come numero 1 del tabellone per usare un termine dei playoff americani Kawasaki con Alex Lows ci ha messo tanto una pezza ma Kawasaki la dovremmo attendere evidentemente nel corso della stagione in più anche perché Bassani non ha propriamente performato bene Yamaha e Locatelli sembrano un pacchetto molto molto in alto come appunto è capitato lo scorso anno quindi attenzione da quando già si ricomincerà l'ostilità delle Superbike nel secondo appuntamento della stagione ovvero a Barcellona da un certo punto di vista è un peccato perché dovremmo aspettare praticamente un mese per vedere la Superbike di scena si correrà appunto da qui in poi solo in Europa a partire da Barcellona e concludere a RS ricordo che la Superbike avrà due appuntamenti in stagione Misano per quanto riguarda l'Italia ovviamente e l'esordiente Cremona a Cremona piccolo spoiler sarò presente sicuramente alla domenica 22 settembre per un vlog in diretta come abbiamo fatto per gli altri anni questo è stato il recap della Superbike per un campionato che spero sia così fino all'ultima gara ha detto che se dovesse andare avanti così io vivo a ottobre non ci arrivo parliamo però di Supersport perché qui invece c'è stato un vero e proprio dominatore a differenza della Superbike qui il regolamento tecnico non è cambiato non abbiamo avuto delle zavorre ma abbiamo un regolamento tecnico che limita da un certo punto di vista le moto con cilindrato superiore per i Ducati Triumph MV Agusta ma appunto questo non toglie il fatto che Iari Montella ha fatto due gare straordinarie e appunto il pilota Campano torna a vincere dopo due anni di distanza e lo fa nella stessa pista che lo ha visto vincere l'unica gara in carriera Montella adesso è un pilota del team Ducati Barney Spark lo stesso che c'è in moto o meglio non in MotoGP ovviamente in Superbike con Danilo Petrucci e ha fatto due gare veramente sontuose e quindi punteggio pieno quindi non cambia un po' la sostanza abbiamo un italiano che domina dopo Nicola Bullega lo scorso anno abbiamo Iari Montella che vince appunto quasi per dispersione le gare di Supersport due primi posti molto interessanti per due moto italiane che di fatto hanno dominato perché a parte l'eccezione di Stefano Manzi in seconda posizione quindi dobbiamo celebrare la doppietta italiana in Supersport con Manzi che comunque rimane uno dei favoriti al titolo l'MV Agusta completa l'opera facendo due podi su due gare perché in gara 1 Marcel Schroeter arriva in terza posizione e il veterano tedesco poi si conferma un uomo da podio al netto che la seconda gara poteva evidentemente arrivare a vincerla ma probabilmente non c'erano i giri sufficienti la Supersport ha corso una gara sprint di fatto per dieci giri ma Schroeter con qualche giro in più poteva forse azzardare alla vittoria di Iari Montella ma comunque è un'ottima presentazione anche per la MV Agusta che appunto si issa in seconda posizione terza posizione invece per Adrian Huertas che è uno dei favoriti al titolo della Supersport ma appunto in gara 1 di fatto non è partito si è ritirato per un problema tecnico in gara 2 Rimonte fa terzo per una Supersport che comunque ha tanti costruttori diversi nelle prime dieci posizioni perché abbiamo per esempio anche lì la MV Agusta di Federico Caricasura abbiamo avuto la Yamaha di Manzi abbiamo avuto la Triumph di McPhee di Navarro insomma anche qui tanta carne al fuoco in attesa che anche qui si torni a correre in Europa la Supersport segue lo stesso canale della Superbike e quindi si rivedranno tutti a Barcellona per il ultimo weekend di marzo parliamo del 23 e del 24 insieme alla Superbike che appunto ha regalato un weekend clamorosamente bello in quel di Phillip Island con il sorprendente Alex Lowe in testa al mondiale io spero che l'andare della Superbike e della Supersport in generale sia questo quindi con gare combattute con tanti marchi diversi protagonisti per regalarci 12 gare di adrenalina pura da qui fino a ottobre intanto voi fatemi sapere cosa ne pensate di questa prima gara di Phillip Island come avete visto il nuovo regolamento se siete d'accordo cosa avreste cambiato e in generale come vedete questo mondiale 2024 il saluto da parte di mytutorgard ci vediamo a un prossimo video a un prossimo video a un prossimo video